Buongiorno, sono Luciano Marchino. Sono qui per presentarvi il corso Crescere, Apprendere e Divenire, una introduzione alla lettura dinamica del corpo. In questi tre workshop apprenderemo in modo direttamente vissuto i fondamenti dell'analisi bioenergetica e della psicologia somato-relazionale. Lavoreremo sempre in modo esperienziale, ma non sarà solo un fare. Al contrario, sarà un'introduzione al saper essere, in contatto profondo, diretto e continuo con le esperienze sensoriali, emozionali e cognitive che vivremo istante dopo istante all'interno di una comunità di apprendimento fondata sull'empatia, sull'ascolto e sull'assenza di giudizio. Scopriremo come l'armatura a carattere muscolare ci governi dall'interno, difendendoci da antichi schemi di cui abbiamo perso la consapevolezza. Scopriremo anche che la natura ha provveduto a equilibrare le ferite inferte dal processo di apprendimento sociale, promuovendo e sostenendo le nostre risorse naturali. Insieme trasformeremo questi tre appuntamenti nelle tappe di un viaggio intenso e affascinante che ci trasformerà profondamente. Spero proprio di averti con me durante questo percorso che conosco bene e che amo.